Settima giornata per il giro dei 6, lo Schalke a caccia della prima vittoria in stagione affronta gli Eleganti che cercano un po' di continuità dopo la vittoria del turno precedente sugli Aviator. Partono bene gli Eleganti che al 9 minuto si portano avanti, Gravina scarica su Spineto con il piattone, batte Flubini, Eleganti 1, Schalke 0. All'undicesimo lo Schalke trova il pareggio, vola De Plano che scarica il centro per Lodo che tutto solo non può sbagliare, Schalke 1, Eleganti 1. Ma un minuto più tardi Spineto fa tutto bene, il numero 7 fa sfilare per Pischeda che non perdona davanti a Flubini, gli Eleganti si riportano avanti per 2 a 1. La risposta dello Schalke non si fa attendere, Murroni va alla conclusione, la palla resta lì e termina sui piedi di Conju che trova il 2 a 2. Il pari dura poco e Gravina al sedicesimo con questo sinistro precisissimo, batte Flubini per il nuovo vantaggio Eleganti. Termina qui la prima frazione di gioco con gli Eleganti avanti di misura per 3 a 2 sullo Schalke 0,66. Eleganti pericolosissimi ma si salva in qualche modo la difesa dello Schalke. Al trentesimo arriva il nuovo pareggio per lo Schalke e porta la firma di Murroni che dal limite non lascia scampo a Farris per il 3 a 3. Ad un passo dal vantaggio gli Orange con Spineto la palla si stampa sulla base del palo. Quando ormai tutto sembrava propendere per il pareggio arriva il gol della vittoria per lo Schalke con Lodo che ribadisce in rete la prima conclusione di Pina per il gol che vale il 4 a 3. E termina qui la contesa, lo Schalke porta a casa i primi 3 punti di stagione sconfitta di misura per gli Eleganti.